Siamo al Palestra, è sbarcato in Italia a Santiago Codrici, che è uno dei colpi di mercato dalla Serie A argentina, all'Amen Sba, presidente, è rimasto subito incantato dalle giocate di Santiago. Sì, prima sono rimasto colpito dal Caliente, che è un ragazzo veramente bravo, solare, un ragazzo simpaticissimo. Questo è stato il primo effetto, il lato umano in questo gruppo è molto importante. Poi adesso le prime sgambatine, così, devo dire che insomma si vede subito che la categoria è diversa, quindi sono molto contento, ma veramente, meramente molto soddisfatto. Santiago, cosa ti pare di Arezzo, questi primi momenti ad Arezzo? Buonasera, la verità è che è molto bello, conoscendo il pobolito, la città, conoscendo l'idioma, non parlo italiano, entiendo un poco, però non parlo italiano. Però sì, più o meno si capisce, no? Sì, così, conoscendo l'equipo nuovo, la verità è che è molto bello, mi ricevono molto bene con le porte abierti, con una sonrisa, e questo aiuta molto per l'adaptazione, quindi sono molto contento. Mi è piaciuta la città, per quel poco che ha potuto vedere, sta conoscendo i ragazzi, la nuova squadra, gli piace l'ambiente, si è trovato bene, subito col sorriso, e questa è una cosa che aiuta a costruire poi la squadra e un buon clima per affrontare il campionato. La grigliata di maiale l'ha apprezzato, la retina, di asado. Di asado, sì, argentino, molto bene, molto ricco. Senti, nella serie A2 argentina, da dove tu vieni, che livello c'è di basket? La liga argentina, si chiama, tiene un molto buon livello, già l'Argentina, da poco, con il passare dei anni, sta subendo molto il livello, e si gioca molto fisico e molto tecnico e tattico, quindi ho apprezzato molte cose all'interno, quindi voglio intentare traerla a Italia e poter fare una buona esperienza. Il campionato argentino è una buona liga, dove c'è un buon livello, un ottimo livello, sia tecnico, tattico che fisico, e quindi spera di poter portare quello che ha imparato in Argentina qui da noi, di poterlo poi replicare anche sul campo. In bocca al lupo, complimenti. Grazie, grazie.